... Alle IDI di marzo del 44 a.C. veniva ucciso Giulio Cesare. Andrea Marini ci guida alla scoperta dei luoghi della congiura. È quasi incredibile come ancora a distanza di 2055 anni, nelle IDI di marzo, ovvero il 15 di questo mese, ci continua ad essere una sorta di venerazione di popolo, di spontaneo ricordo di Giulio Cesare. Come ogni anno in questa data, fiori vengono deposti sull'area retta nel luogo della sua cremazione. Rievocatori storici in costumi romani montano una sorta di guardia d'onore davanti alla curia di Pompeo, luogo dell'uccisione per mano dei congiurati del condottiero che doveva essere fatto re proprio in questo giorno del 44 a.C. Qui al centro di Torre d'Argentina sorge quella che fu la curia di Pompeo. In questo luogo si spostò il Senato dopo la distruzione della curia al centro del foro romano. e in fondo a quella costruzione è il luogo dove venne assassinato Cesare dalle 23 coltellate dei congiurati. Al centro del foro sorge invece il luogo dove il corpo di Cesare fu esposto al popolo e poi bruciato su una pira, ci racconta Piano, fatta con un accumulo di tavole e sedili. Tutto il popolo, ci dice ancora lo storico, assistente a rogo durante la notte. In questo luogo dove fu deposto e cremato poi Cesare, ancora oggi vengono deposti lumini e fiori. Ed ancora, sempre spontaneamente, sotto la sua statua in via dei fori imperiali si tengono anche libagioni, con le libe che erano le focacce romane, in onore di Anna Perenna, la dea romana che influiva sul corso dell'anno. Onore Reme faremo la libagione ad Anna Perenna e secondo quello che dice Varone e quello che racconta Ovidio, logicamente, nei fasti, questo ci darà e darà a tutti i romani un anno di felicità e di prosperità.